e noi ci prepariamo perché c'è cambio in console da questo momento e poi Alessandro Galli le mani a cielo grazie, su le mani, sotto a treno parti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sotto a treno parti, benvenuti, buon viaggio, Santo Galli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti